e per Barbara, grazie. Ciao Barbara, Edoardo Sidi di Juventus TV. Questa secondo te è una delle partite più importanti della storia delle Juventus Women e quindi che giocherai tu in bianco-nero? Buongiorno. Beh, sì, sicuramente è una delle partite più importanti ma io penso che ogni partita sia importante perché se possiamo dire che questa è così importante perché abbiamo fatto bene nelle altre quindi aver vinto a Servette, aver pareggiato con il Wolfsburg e adesso andiamo a giocarci un pezzo di qualificazione domani quindi se vinciamo sarà forse la partita più importante. Buongiorno Barbara, sono qua. Luca Cavallero, Radio Bianco-Nera. Io volevo chiederti che tipo di partita ti aspetti a livello pratico dopo appunto aver visionato il Wolfsburg all'andata. Grazie. Allora, immagino che possa essere molto simile alla partita d'andata e loro sono una squadra fisica che punta molto sull'aggressione e quindi mi aspetto questa partita molto simile a quella di andata e probabilmente a casa loro avranno anche un pochino più di fiducia ma noi l'abbiamo preparata e andiamo a giocarcela senza paura. Buongiorno Barbara, Domenico Marchese, La Repubblica. In queste prime partite di Champions League tu hai parlato prima della fisicità, dell'intensità. Quanto ha sentito la differenza con il campionato italiano e quanto aiutano ad adattarsi a questo stile di gioco che è completamente diverso? Grazie mille. Ma completamente diverso non direi. Direi che il campionato italiano è migliorato molto e ci sono partite toste. Sicuramente vai a giocare contro le squadre più forti d'Europa e quindi fisicamente sono belle toste e sono forti. Però credo che anche noi come squadra, come campionato, siamo migliorate molto ed è per questo che la Juventus sta facendo così bene anche in Champions League ed è grazie al campionato italiano. Buongiorno Barbara, Romea Gressi, Goal.com. Ti chiedo se pensi che la Juventus arrivi domani nel picco di maturità europea. Cioè c'è una consapevolezza differente rispetto alle altre stagioni? Grazie. Probabilmente ci stiamo credendo di più. Arriviamo alla partita di domani sperando di poter fare qualcosa di grande. Ho sentito una bella sensazione tra tutte le mie compagne. lo staff, la squadra. Quindi sicuramente abbiamo una consapevolezza diversa e domani andiamo a giocarcela per vincere. Buongiorno Barbara, Nicola Balice, Calciomercato.com, Corriere Torino e Corriere dello Sport. Il termine consapevolezza è quello che state utilizzando un po' tutte maggiormente in questa stagione. A tale proposito, quella sconfitta, anche se non amichevole, a Barcellona ha davvero rappresentato una molla a livello emotivo per capire che bisognava essere prima di tutto più convinte contro certi avversari? Grazie. Beh, sicuramente io penso sempre che le sconfitte ti insegnano qualcosa. Anzi, tante volte dalle sconfitte impari molto di più che dalle vittorie. Quindi quella partita, per fortuna, è venuta nel pre-stagione. Era una delle prime partite. Abbiamo provato a imporre il gioco che ci stava insegnando il mister. Probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa e da lì abbiamo imparato e abbiamo provato a cambiare qualcosina per giocarcela al meglio. Ma come ti ho detto all'inizio, le sconfitte servono sempre molto. Ciao Barbara, Mauro Munno, Juventus News 24. Tu in estate hai rifiutato anche tante offerte da Top Club. Volevo chiederti se dopo qualche mese di mister Montemurro si è ancora più contenta di aver fatto quella scelta. Grazie. Non sapevo di aver rifiutato tante offerte, però... No, sì, sono felicissima. Io dico sempre che non bisogna mai chiudere porte, però la Juventus è casa mia e sono molto contenta che è arrivato il mister qua alla Juventus a darci una mano, provare a fare qualcosa di buono e aumentare i nostri obiettivi. Perché alla fine con Rita Guarino avevamo praticamente vinto tutto in Italia, ci mancava qualcosa forse di esperienza in Champions. E quindi abbiamo provato tutti insieme a fare un salto e speriamo di riuscirci. Ciao Barbara, Giovanni Albanese, Gazzetta.it. Mi leggo proprio a quello che hai appena detto, perché dopo aver raggiunto il massimo la scorsa stagione con tutte le vittorie in campionato, ti aspettavi che questo stesso organico avesse questi margini di crescita che comunque state mostrando palesemente quest'anno? Ti ringrazio, sì. Io sentivo che con tutte le mie... Io credo che siamo una squadra veramente forte, forse una delle più forti in cui io abbia giocato, però sentivo che potevamo crescere ancora, che c'era qualcosa ancora che mancava e non so se l'abbiamo trovato, ma secondo me stiamo lavorando tutti insieme per provare a raggiungere quella percentuale in più per cambiare e provare a fare qualcosa in più anche fuori dall'Italia. Buongiorno Barbara, Marco Amato, ilbianconero.com Ti volevo chiedere se al momento dei sorteggi ti saresti aspettata a questo punto di giocarti ancora alla qualificazione. Assolutamente sì. Ovviamente non era semplice, nessun girone era semplice, forse c'era un girono, un briciolo più semplice del nostro, però quando ho visto le squadre che abbiamo pescato ero fiduciosa perché, non lo so, perché sento che siamo a un buon punto ed ero sicura che saremmo arrivate a giocarcela alla pari. Fino adesso l'abbiamo dimostrato e domani vediamo cosa succederà. Ok, se non ci sono più domande per Barbara passiamo a quelli per il mister. Grazie. Ciao mister, Edoardo Sidi di Juventus TV. Alla luce della partita dell'andata, di come si è sviluppata, dei punti di forza che abbiamo visto del Wolfsburg, che cosa bisogna cambiare per riuscire a soffrire un po' meno e cercare di ottenere un risultato migliore visto che l'obiettivo è la vittoria? Grazie. È una domanda abbastanza difficile perché ovviamente non sappiamo come andrà la partita però secondo me di accorciare le distanze secondo me siamo stati un po' lungo sulla fase difensiva e su quel punto di vista abbiamo visto che è importante di starvi più vicini sulla fase di costruzione e anche quello di difensiva. Secondo me è una cosa fondamentale per domani sera. Mister, buongiorno, Giovanni Albanese, Gazzetta.it Oggi solo una domanda. Le chiedo... Io ho iniziato a contare. No, le chiedo quanto la immagina è diversa rispetto all'andata alla partita di domani. Grazie. Ma sarà molto diverso ovviamente perché noi abbiamo già fatto l'esperienza contro questa squadra e lo sappiamo anche come... non solamente sul video come lo vediamo ma come anche del feeling e di capire come fisicamente e come sono messi anche sul punto di vista di attreggiamento della squadra. Allora abbiamo un po' di esperienza allora per noi non è una cosa di non capire la pressione che ci sia domani sera l'abbiamo già vissuta abbiamo l'esperienza e così lo portiamo domani sera per capire che domani ci sarà tanta pressione nel senso di partita fuori casa importante sul punto di vista ma come combattono sempre come dico sempre per me sì è importante il risultato però la prestazione per me è anche più importante perché ci fa vedere dove siamo veramente una partita fuori casa contro una squadra uno dei migliori nel mondo e per prendere il risultato secondo me domani sera ci fa vedere veramente il nostro benchmark dove siamo Salve mister Mauro Munno Juventus 24 volevo chiederle se a livello personale la considera una delle partite più importanti della sua carriera grazie ma assolutamente sì ovviamente giochiamo in una situazione che ovviamente per andare andare oltre il gruppo è una partita chiave per le grandi partite che abbiamo fatto siamo rimasti ancora nel gruppo che è una cosa importante e posso dire che sì è una partita importante ma queste partite io lavoro per queste partite sono le più importanti e lo faccio questo mestiere per queste partite e speriamo che possiamo portare avanti una bellissima gara buongiorno mister romeagressigol.com mister le faccio una domanda su Bonfantini riduce della doppietta contro Lazio in crescita esponenziale le chiedo se vista anche le sue caratteristiche giocatrice molto europea possa essere un'opzione per domani grazie abbiamo visto che è stata già un'opzione nelle altre partite come dico sempre alle ragazze sì quei 11 che iniziano va bene fa parte della gara ma è una questione di tutti e 20 che dobbiamo dobbiamo leggere la partita e vedere il punto giusto per finalizzare la partita o di farlo entrare guarda io con Bonfa ho molto fiducia nella sua crescita e sta crescendo veramente in un modo importante secondo me ovviamente se c'è l'opportunità che lei poi fa un contribuzione domani sarà molto importante buongiorno mister Luca Cavallero Radio Bianconera la mia domanda invece riguarda Urtig le chiedo se l'esperimento l'esperimento se il ruolo in cui l'ha impiegata contro la Lazio sia falso 9 può essere replicabile in una partita come quella di domani grazie ma diciamo che i lavori che facciamo hanno sempre qualche qualche motivo nel senso allora di averlo come opzione come come situazione quando le squadre non ti danno tanto spazio di aver questa come lo sa Barbaro un fluidità nei quattro in attacchi è molto importante nel calcio moderno e diciamo che sì quell'esperimento lì è una cosa che abbiamo nella nel nostro toolbox nella nostra area che per usarla e dai l'abbiamo l'abbiamo gestita abbastanza bene l'altra giornata buongiorno mister all'andata ha detto che il Forsburg avrebbe dovuto avere paura della Juve adesso l'effetto sorpresa è un po' finito sia Chelsea che nella partita prossima che appunto il Forsburg Dormani vi aspettano al Varco come si può a questo punto fare il salto di qualità come si può puntare a vincere e non soltanto a uscire diciamo a testa alta dal campo grazie non posso dire sempre che gli altri sono i favoriti lo dico sempre qualche volta dobbiamo essere anche noi davanti alla situazione ma comunque dai noi lo sappiamo il Wolfsburg com'è come squadra e lo sappiamo che il contributo che hanno fatto nel calcio femminile negli ultimi dieci anni è stata una cosa veramente importante come società e come gioco guarda adesso come ho detto prima adesso che abbiamo capito la pressione a questo livello perché secondo me come come sono messi fisicamente anche tatticamente non c'è una squadra in Europa che gioca così e adesso le ragazze sono state esposte a questo a questo livello di gioco e hanno hanno già hanno capito il livello di pressione hanno capito il livello della difficoltà che ci sono e secondo me siamo anche più preparati dell'altra partita Daniele Galos Tutto Sport volevo chiedere se dopo aver incrociato Chelsea e Wolfsburg ma più in generale aver visto queste prime tre giornate di Champions ritiene che ci sia ancora un gap rispetto alle migliori formazioni d'Europa e se questo eventuale divario è anche tecnico o esclusivamente fisico guarda questo punto è un po' difficile a dire perché io secondo me le partite contro il Chelsea e il Wolfsburg fuori casa ci fa vedere veramente dove siamo io posso dire sì abbiamo accorciato già l'idea di starli vicini sul punto di vista tecnico tattico ovviamente fisicamente i loro campionati è più di fisica e hanno più delle partite che vedono questa pressione fisica allora loro lo giocano ogni settimana che noi forse sul punto di vista fisico non lo prendiamo ma però tatticamente è molto difficile il campionato di Serie A guarda io come ho detto prima secondo me la prestazione di domani sera ci fa vedere veramente dove siamo dove siamo arrivati perché fuori casa contro una squadra così forte giocando diciamo il gruppo se vuoi dire così e ci fa vedere veramente dove siamo e dove dobbiamo crescere Buongiorno mister dopo la partita contro il Fosburg ci aveva detto che nello spogliatoio aveva avvertito un po' di tensione e invece oggi come ha visto le ragazze che ora si respira nello spogliatoio grazie è normale è normale durante una partita così grande nello grande stadio però come ripeto adesso che hanno avuto questa esperienza e tutte queste esperienze parlando di Barcellona parlando di delle partite con Lyon l'anno scorso parlando di tutto USA per la nostra crescita secondo me hanno capito cosa di aspettare e erano secondo me anche questa settimana molto molto più calmi nel punto di vista della procedura della partita domani sera ok non vedo altre domande grazie a tutti buon pomeriggio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti